amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi parliamo di porsche questa qua è una porsche macan con dire abbastanza recente col motore 2000 turbo benzina quella da 252 cavalli quindi la tendenza come ho spiegato tante volte in altri filmati adesso porsche sta facendo appunto delle cilindrate sta riducendo le cilindrate le fa ovviamente tutte turbo con potenze specifiche abbastanza elevate questa è una macchina che ha percorso già abbastanza chilometri perché nonostante sia una macchina diciamo turbo benzina che consuma abbastanza il cliente la usa per lavoro quindi ha già fatto più di 130 mila chilometri quindi quello che ci ha che abbiamo consigliato al cliente perché era partito col concetto come al solito di dare più cavalli più coppi più potenza e fin lì va bene però con quel chilometraggio abbiamo suggerito di fare due lavori a monte della centralina che sono sostanzialmente il servizio manutenzione cambio automatico questo è un cambio automatico di ultima generazione ma come tutti i cambi automatici ha bisogno di avere una manutenzione diciamo che normalmente una manutenzione corretta viene fatta ogni 80 90 100 mila chilometri diciamo quindi viene scaricato l'olio pulito con un detergente messo l'olio nuovo cambiata la parte sottostante dove c'è appunto un filtro che serve per drenare quello che sono i residui dell'olio del cambio e a questo a questo punto il cambio va avanti per altri 100 mila chilometri senza nessun tipo di problema purtroppo questo è un tipo di di service che spesso in in reti ufficiali porsche piuttosto che altri trascurano per poi arrivare con chilometraggi molto più elevati quindi se uno trascura questi service può arrivare sui 150 160 mila chilometri ad avere problemi sul cambio automatico con conseguenti spese molto molto più elevate per metterle a posto quindi ricordatevi il discorso di fare una manutenzione anche se non è prevista dalla scheda di manutenzione della vettura o se non ve lo consiglia il concessionario fatelo direttamente voi fate sicuramente un affare per non spendere poi soldi ulteriori dopo altro lavoro che abbiamo visto funziona molto bene e diciamo da delle ottime un'ottima resa e la pulizia del motore con il sistema idrogeno quindi sistema idrogeno è un sistema dove viene immesso lentamente questo questo componente questo idrogeno che si mischia all'aspirazione quindi che va in camera di combustione e va a pulire praticamente tutta la parte alta del motore quindi tutta la parte di condi dove c'è la compressione pistoni la testa la turbina e ovviamente lo scarico con in questo caso questa macchina l'OPF comunque viene pulito l'OPF viene pulito il catalizzatore diciamo che noi abbiamo riscontrato abbiamo fatto anche a volte delle prove di potenza su macchine magari più chilometrate ovviamente questo sistema non dà dei cavalli in più noi diciamo otteniamo dei cavalli in più ma per recupero cioè macchine molto chilometrate in maniera molto lenta piano piano perdono per via appunto delle morche per via di ostruzioni varie perdono una parte di potenza questa potenza si può recuperare in due modi o alla vecchia maniera costosissima veniva smontato il motore pulite le parti non era veramente economicamente percorribile oppure con un sistema assolutamente economico e ben poco invasivo perché la macchina stai acceso un'ora un'ora e mezza dipende dal tipo di motore si ottiene lo stesso risultato e il motore ritorna perfettamente pulito abbiamo fatto una prova anche con un endoscopio abbiamo visto che le teste dei pistoni ritornano perfettamente lucide quindi come dicevo il discorso dell'idrogeno è una come dire una tecnologia che è venuta fuori nel corso di questi ultimi anni però devo dire quindi viene venduta un'apparecchiatura che le officine specializzate generalmente acquistano o affittano noleggiano dipende dalle situazioni e il cui risultato su macchine appunto una macchina nuova non avrebbe senso ma una macchina già con 50 60 mila chilometri si sente una bella differenza per assurdo più la macchina è chilometrata e più si sente la differenza in termini di recupero di potenza e di resa è come se uno facesse una cura per pulirsi dal colesterolo più o meno il concetto è quello quindi motore rimesso a posto per il resto il motore era assolutamente in perfette condizioni a questo punto ci siamo dedicati al discorso elettronico quindi in questo caso avevamo sempre le due opzioni o rimappare la centralina principale oppure adottare il sistema esterno con la centralina seletron siccome questa è una macchina a noleggio a lungo termine quindi abbiamo optato per un sistema facilmente come dire smontabile alla fine del noleggio perché il cliente probabilmente cambierà cambierà macchina quindi mi ha detto guarda facciamo questo sistema qua in maniera tale che in dieci minuti togliamo via la cavetteria e quando sarà il momento io darò dentro la macchina quindi abbiamo utilizzato come ho spiegato tante volte questa centralina che lavora su tutti i parametri di pressione quindi non solo la pressione rail ma la pressione turbo la pressione minimo assoluto ci sono quattro sensori diversi il sensore cam cioè è una una centralina esterna molto molto evoluta che dà le stesse prestazioni in grosso modo che noi riusciremo a ottenere andando a riprogrammare la centralina principale quindi abbiamo fatto un calcolo noi non cerchiamo di non spingere mai questi incrementi oltre certi limiti sia in un caso che nell'altro abbiamo detto al cliente noi arriveremo sui 30 35 cavalli non di più è più o meno una sessantina di geometri di coppia quindi come dicevo noi è proprio una prassi che adottiamo quando facciamo questo tipo di lavorazione noi tendiamo dire ottimizzazione della parte elettronica non elaborazione ottimizzazione significa andare a migliorare una linea di coppia una linea di potenza senza senza esagerare per mantenere la macchina assolutamente affidabile avere la vettura più scattante più pronta ai medi e bassi regimi e a velocità costante una riduzione nei consumi quindi ripeto sia l'una sia l'uno che l'altro sistema portano esattamente lo stesso risultato ultima cosa che abbiamo fatto mi stavo dimenticando a livello sempre di manutenzione pastiglie freni quindi abbiamo utilizzato nei dischi sono ancora quelli originali abbiamo utilizzato delle pastiglie freni che si possono adattare un pochino più sportive di quelle fornite dalla casa in maniera tale da non creare problemi di surriscaldamento con il disco quindi noi utilizziamo sempre pastiglie dell'ABC che questa ditta inglese l'avete vista innumerevoli volte nei vari filmati propongono cinque mescole diverse di pastiglia a seconda dell'utilizzo uno sceglie la mescola più adatta io direi che anche per questa macan oggi è tutto se avete bisogno di qualunque tipo di informazione mi trovate direttamente in sede allo 027383175 consultate il sito www.9milagiri.it cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per darci una mano e per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima A presto!